Ha riportato gravissime lesioni ad una gamba l'imprenditore di 56 anni di Dubino, vittima questa mattina poco dopo le 9 di un terribile infortunio sul lavoro. L'uomo titolare di un laboratorio per la lavorazione del granito con sede nella zona artigianale di Nuova Ologno stava movimentando un blocco di pietra quando, per causa in fase di accertamento, la gru avrebbe ceduto e il masso sospeso nell'aria lo avrebbe investito ad una gamba. Le grida del 56enne hanno immediatamente attirato l'attenzione del cognato impegnato in un lavoro poco distante che ha resosi conto di quanto accaduto tempestivamente messo in moto la macchina dei soccorsi. L'imprenditore è stato quindi preso in cura dal personale sanitario e trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano dove ora si trova ricoverato. Il ferito, con un grave trauma da schiacciamento ad un arto, è stato immediatamente sottoposto ad ossigenoterapia e ad altri trattamenti specifici. Intanto sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Delebio, i tecnici dell'ATS della Montagna al lavoro per fare piena luce sull'esatta dinamica di quanto accaduto. Dopo aver ascoltato i primi soccorritori e il fratello del 56enne che ha una ditta poco distante, nel cantiere sono stati fatti tutti i rilievi per ricostruire le sequenze dell'infortunio.